In occasione della giornata nazionale per la salute della donna, che quest'anno si svolgerà per la prima volta, è stata organizzata una settimana in Clinica Mangiagalli e Policlinico di Milano, proprio specificatamente sui problemi connessi alla salute della donna, con visite che sono state effettuate in senologia, in diagnosi prenatale, in genetica, al soccorso violenza sessuale e domestica, dai neonatologi. Insomma, l'adesione da parte delle varie unità operative a questo progetto sulla giornata nazionale per la salute della donna è stata molto ampia. La logica che ha guidato l'organizzazione di questa giornata è legata fondamentalmente al fatto che noi partecipiamo fin dall'inizio ai Bollini Rosa, promossi dall'Associazione Onda. Abbiamo sempre avuto tre Bollini e spero che questi tre Bollini ci saranno conservati sempre, perché la nostra intenzione è che questo sia un ospedale attento alle donne e soprattutto che sia in grado di aiutarle in qualunque momento della loro vita. In questa occasione, il 28 aprile invece, incontreremo le donne milanesi e non solo che vorranno venire a discutere con esperti di vari problemi che le riguardano. Quindi parleremo prevalentemente in questo incontro che si terrà in Aula Magna della Clinica Mangiagalli della gravidanza, di cosa fare prima di iniziare una gravidanza, di cosa fare se ci sono delle malattie in famiglia che potrebbero essere trasmesse ai futuri bambini, di cosa fare se si teme di poter avere una depressione postpartum perché già nella propria vita si sono avuti episodi di depressione o per una particolare fragilità momentanea, come fare a individuarla, come fare a trattarla, che aiuto può essere dato e parleremo anche di come allattare al meglio il proprio bambino. Saranno presenti come esperti vari professionisti del policlinico, la dottoressa Lalatta come genetista, io, la dottoressa Colombo come psichiatra esperta di depressione e il dottor Colombo per la parte che riguarda l'allattamento al seno. Spero che a questi incontri partecipino molte donne, che soprattutto le domande siano molte e spero che saremo esaustivi nelle risposte. Tenete presente che se volete il servizio soccorso violenza sessuale domestica sarà aperto per tutto il tempo per accogliere donne che volessero anche chiedere un consiglio per un'amica, per una figlia o per una conoscente.